Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di che cosa? Del credito IVA potenziale. Il credito annuale deriva dall'applicazione del decreto IVA e dal sistema delle detrazioni caratteristico dell'imposta, dai versamenti che sono stati operati durante l'anno e anche relativi all'acconto di dicembre, ma anche dal credito dell'anno precedente. Importante invece e particolare è la categoria del credito proveniente dal recupero di che cosa? Dal recupero del credito potenziale, che è relativo a che cosa? I versamenti omessi effettuati nei periodi successivi a seguito degli avvisi bonari, delle cartelle esattoriali, perché? Perché c'erano state delle omissioni relative alle dichiarazioni dei periodi precedenti, oppure da un credito che scadutturisce dalle dichiarazioni integrative. Focalizziamoci però su che cosa? Sul credito potenziale, che è l'oggetto del nostro puntuale verifica di oggi. Il punto di partenza è una dichiarazione che ha versamenti periodici omessi. Non importa per quale ragione siano stati omessi, anche in applicazione abbiamo visto di un differimento previsto dalla legge. La domanda che dobbiamo farci, e che rappresenta secondo me un passaggio indispensabile, un test quindi obbligatorio, per comprendere come la nostra dichiarazione dovrà essere compilata, ci fa fare attenzione a che cosa? Alla formazione o meno di questo credito potenziale. Se, e bisogna sottolineare, se tutti i versamenti periodici fossero stati operati, come si presenterebbe la dichiarazione? Se la dichiarazione si presentasse con un credito, allora siamo in presenza di un credito potenziale. E quindi si compila il RIGO VL41. Se invece, pur avendo effettuato tutti i versamenti, la dichiarazione si presenta o pari o con un debito, non abbiamo nessun tipo di credito potenziale e quindi non dovremo compilare il RIGO VL41. Chiariamo, partendo dal quadro proprio VL. Nel quadro VL del modello IVA sono indicati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti. E non quindi anche quelli sospesi, come quelli previsti a seguito delle norme da Covid-19 e che sono riportati invece nel RIGO VA16. Ramentiamo i fatti che, due anni fa, si era in presenza di un VA16 particolarmente articolato. In breve, di fronte ai versamenti omessi e a un credito IVA potenziale, abbiamo solo due possibilità. O recuperiamo l'IVA attraverso una dichiarazione integrativa, oppure dobbiamo operare attraverso il quadro VQ. Partiamo da un esempio, vediamo un esempio. Nel 2022 non è stato versato l'acconto IVA per Eudo 8000. E facciamo quindi il test e chiediamoci, se tutti i versamenti fossero stati operati, cosa presenterebbe la dichiarazione? Ai fini dell'esempio, consideriamo, ipotizziamo, un credito di 7000 euro. Allora, in questo caso, da esempio, abbiamo un credito potenziale di 7000 euro che risulta però bloccato, fino a quando? Fino a quando non si comincia a pagare. E lo recuperiamo man mano che stiamo pagando. Quindi, se il pagamento di questi 7000 risulta fatto in più anni, il recupero lo avremo in più anni a seguito della rateazione che abbiamo applicato per poter recuperare questi 7000. Questo pagamento può essere fatto anche parzialmente, come abbiamo visto, e può essere fatto a seguito di un avviso bonario, di una cartella esattoriale, ma anche spontaneamente con un ravvedimento operoso. Se invece la dichiarazione finisse comunque con un saldo a debito, abbiamo visto prima, non si genererebbe alcun credito potenziale. Quindi, per l'acconto, avremmo in questo secondo caso, soltanto un avviso bonario o dovremo procedere a effettuare un ravvedimento operoso. Nella gestione, infatti, del credito potenziale, dobbiamo fare attenzione a due macro-categorie. Una è quella dei versamenti spontanei, che sono i ravvedimenti operosi. Oppure i versamenti non spontanei, che sono dati da cartella esattoriale e da avvisi bonari. Oppure, terza casistica, ma ormai è residuale, è quella dovuta alle direzioni previste da specifiche norme, tipo quelle del Covid-19. Da quanto si evince, è chiaro una cosa. È chiaro che, se si deve procedere ad apporre il visto sulla dichiarazione IVA dell'anno, si dovrà avere accesso al cassetto fiscale dell'azienda, al fine di poter verificare l'esistenza e la corretta gestione, nel corso degli esercizi, dei crediti provenienti dagli esercizi precedenti. Infatti, il legame che in questo caso si presenta della dichiarazione in corso con le dichiarazioni precedenti, oppure, se si tratta del primo anno in cui si genera un credito potenziale, avremo delle ripercussioni sugli esercizi successivi. Questo ci comporterà una maggiore attenzione nella predisposizione e della posizione del visto di conformità. Con questo vi saluto, un caro saluto a tutti e alla prossima videopillola. Buona giornata.